Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di lingua italiana per l'ottava classe. Draghi uccenici e draghe uccenice, dobrodošle na satt italianskog jezika za osmi razred. Il tema di oggi è in viaggio per l'Italia. Il mio nome è Barbara Faturi-Juretić e oggi sono la vostra insegnante. Materiale necessario. Il quaderno, la matita o la penna, il cellulare, il tablet o il computer con la connessione internet. Per lavoro vi è necessario il prossimo progetto. Biljeznica, oloca il chemica, ureggiare con internet. Vi ricordo che potete fermare la lezione in qualsiasi momento. Poi ci sono, da ogni momento potete restare e poi continuare il video. Il viaggio per l'Italia Ragazze, domani parto. Vado sul lago di Garda per il fine settimana. Non vedo l'ora di partire. Voi cosa farete di bello? Io vado a Firenze, in Toscana. E tu Elena? Io vado in Basilicata, a Matera, a trovare i miei cugini. Andiamo a fare le valigie. Attività 1 Aiutate le ragazze a preparare le valigie. Scrivete nel quaderno i nomi degli oggetti che vedete nelle immagini. Pomozite di evo i kamapri premiti torbe. Napisite ubileznice i mena predmeta sa slica. Fermate il video. Ecco le soluzioni. Evo riescegna. Le scarpe da ginnastica. I pantaloni. La macchina fotografica. La giacca a vento. La canottiera. La felpa. I calzini. Il dentifricio e lo spazzolino da denti. La gonna. Il berretto. La maglia. Gli slip. Il lago di Garda. Gli esero Garda. Il lago di Garda è il più grande lago italiano. Si trova tra le regioni Veneto, Lombardia e Trentino Alto Adige. Appena arrivata sul lago, Anna è andata subito a Gardaland. Il bellissimo parco divertimenti dove ha trascorso una giornata indimenticabile. E' salita sulle montagne russe e su tutte le altre attrazioni del parco. Ha fatto anche una foto con prezzemolo. Anna ha visitato poi l'acquario. Visto che le piacciono gli animali, Anna è andata al parco Natura Viva, dove ha fatto un vero e proprio safari. Nel parco ha visto le giraffe, le zebbre, i leoni, le tigri e tanti altri animali. Che giornata meravigliosa! Attività 2. Trasformate il testo su Gardaland dalla terza alla prima persona singolare del passato prossimo. Scrivete il testo nel quaderno. Appena arrivata sul lago, Anna è andata subito a Gardaland, il bellissimo parco divertimenti, dove ha trascorso una giornata indimenticabile. E' salita sulle montagne russe e su tutte le altre attrazioni del parco. Ha fatto anche una foto con prezzemolo. Anna ha visitato poi l'acquario. Fermate il video. Ecco le soluzioni. Evo riescegna. Appena arrivata sul lago, sono andata subito a Gardaland, il bellissimo parco divertimenti, dove ho trascorso una giornata indimenticabile. Sono salita sulle montagne russe e su tutte le altre attrazioni del parco. Ho fatto anche una foto con prezzemolo. Ho visitato poi l'acquario. Con i verbi modificati, scrivete nel quaderno delle frasi. Se esmeni in glagolima, napiscite recenite o vasi vegliesnite. Fermate il video. Ecco delle soluzioni possibili. Evo mogu cich riescegna. Ieri sono andata al parco con Maria. Ho trascorso il fine settimana al mare. L'anno scorso sono salita su un aereo per la prima volta. Ieri ho fatto una passeggiata di due chilometri. Martedì scorso ho visitato il museo di Pola. Oltre ai parchi di divertimento, sul lago di Garda ci sono moltissime cittadine che vale la pena di visitare. Anna ha visitato quattro cittadine e ha passeggiato sulle rive del lago. A Sirmione ha visitato il bellissimo castello Scaligero e le grotte di Catullo. A Lazzise ha fatto una passeggiata lungo lago e ha mangiato un tramezzino. A Malcesine è salita sulla funivia per ammirare il panorama dall'alto. A Riva del Garda, la cittadina che si trova in cima al lago, è arrivata in battello. Attività quattro. Rispondete alle domande. Scrivete le risposte nel quaderno. Odgovorite una pitania e zapisite un biljeznicu. 1. Dove ha visitato Anna il castello Scaligero e le grotte di Catullo? Dove ha visitato Anna il castello Scaligero e le grotte di Catullo? 2. Che cosa ha fatto alla Cise? Che ha fatto alla Cise? 3. Perché è salita sulla funivia? 4. Come è arrivata a Riva del Garda? 5. Che cosa ti piacebbe visitare del lago di Garda? 5. Che cosa ti piacebbe visitare del lago di Garda? 6. Fermate il video. Ecco le risposte. Evo odgo ora. 1. A Sirmione, Anna ha visitato il castello Scaligero e le grotte di Catullo. 2. A Lazzise ha fatto una passeggiata a lungo lago e ha mangiato un tramezzino. 3. È salita sulla funivia per ammirare il panorama. 4. A Riva del Garda è arrivata in battello. 5. Mi piacerebbe visitare le cittadine e anche i parchi di divertimento. 5. La città di Firenze. Grad Firenza. Paola trascorrerà il fine settimana a Firenze e visiterà alcuni monumenti famosi. 5. Arriverò a Firenze venerdì pomeriggio e andrò subito a Piazzale Michelangelo ad ammirare la città e i suoi monumenti dall'alto. 6. Sabato mattina andrò in Piazza della Signoria e visiterò Palazzo Vecchio. 7. Il palazzo è un bellissimo museo e all'interno del palazzo è custodita la maschera di Dante, quella di cui si parla nel film Inferno. 7. Nel pomeriggio visiterò la cattedrale di Santa Maria del Fiore e salirò sul campanile di Giotto. 8. Domenica, prima di tornare a casa, visiterò il museo di Leonardo da Vinci. 9. Vedrò molte macchine e ricostruzioni dell'inventore italiano. 9. Attività 5. Rispondete se le affermazioni sono vere o false. 10. Odgovorite i essoli siedici recenizi toccne i linei toccne. 1. Paola arriverà a Firenze sabato sera. 2. Visiterà Palazzo Vecchio. 3. Paola salirà sul campanile di Giotto. 4. Visiterà il museo di Giotto. 5. Vedrà molte ricostruzioni dell'inventore. 5. Fermate il video. Ecco le soluzioni. Evo riescegna. 1. Paola arriverà a Firenze sabato sera. 2. Paola arriverà a Firenze venerdì pomeriggio. 2. Visiterà Palazzo Vecchio. 3. Paola salirà sul campanile di Giotto. 4. Visiterà il museo di Giotto. 5. Vedrà molte ricostruzioni dell'inventore. 5. Vedrà molte ricostruzioni dell'inventore. 6. Attività 6. Trasformate le frasi dal futuro al passato prossimo. 6. Preobliquite sliedece recenizze is futura o passato prossimo. 6. Paola trascorrerà il fine settimana a Firenze e visiterà alcuni monumenti famosi. 7. Arriverà a Firenze venerdì pomeriggio. 8. Sabato mattina andrà in Piazza della Signoria e visiterà Palazzo Vecchio. 9. Domenica visiterà il museo di Leonardo da Vinci, dove vedrà molte macchine e ricostruzioni dell'inventore italiano. 7. Fermate il video. Ecco le soluzioni. Evo riescegna. 8. Paola ha trascorso il fine settimana a Firenze e ha visitato alcuni monumenti famosi. 9. È arrivata a Firenze venerdì pomeriggio. 10. Sabato mattina è andata in Piazza della Signoria e ha visitato Palazzo Vecchio. 11. Domenica ha visitato il museo di Leonardo da Vinci, dove ha visto molte macchine e ricostruzioni dell'inventore italiano. 11. La città di Matera, Grad Matera. Elena è arrivata in Basilicata. Trascorrerà il fine settimana con i suoi cugini a Matera. La città di Matera è conosciuta per i suoi sassi, delle case costruite nella roccia. 12. Fanno parte del Patrimonio Mondiale dell'Umanità. 13. Nel 2019 la città è stata capitale europea della cultura, proprio come la città di fiume nel 2020. 14. Attività 7. Abbinate le parti delle frasi. Scrivete le frasi nel quaderno. 15. Poveggite dielove recenitze. 16. Napiscite recenitze ubiglisnizu. 16. Elena è. 17. La città di Matera è. 17. I sassi fanno parte. 18. Nel 2019 Matera è stata. 18. A. Conosciuta per i suoi sassi. 19. B. Capitale europea della cultura. 20. C. In Basilicata. 20. D. Del Patrimonio Mondiale dell'Umanità. 19. Scrivete il video. Ecco le soluzioni. Evo riescegna. 21. Elena è in Basilicata. 21. La città di Matera è conosciuta per i suoi sassi. 22. I sassi fanno parte del Patrimonio Mondiale dell'Umanità. 23. Nel 2019 Matera è stata capitale europea della cultura. 22. Attività 8. 22. Completate il testo con le parole mancanti. 22. Copiate il seguente link o scansionate il codice QR. 23. Fermate il video. 23. Copiate il video. 25. Copiate il seguente link. Ecco le soluzioni Evoriascegna. Il museo di Leonardo. Elena è stata a Matera. La città è stata capitale europea della cultura nel 2019. La lezione di oggi finisce qui. Arrivederci alla prossima lezione.